Come vedete, si può vedere, non mi somiglia per niente, ma è il figlio biologico di Areta, ma noi siamo le sue mamme. Valentina vive a Ruscello con la sua compagna Areta e con il suo bimbo che ormai ha quasi tre anni e che presto potrebbe avere un fratellino o una sorellina. Lui parla italiano, inglese e chianino, perché i nonni sono in Val di Chiana. Unico figlio per ora, stiamo provando, quindi speriamo che ci arriverà un fratellino o una sorellina a breve, speriamo. Loro sono una delle tre famiglie arcobaleno iscritte all'omonima associazione che risiedono in provincia di Arezzo, ma ce ne sono tante altre nel nostro territorio desiderose come tutti di avere pari diritti per i loro figli. A volte capita che un genitore lavora e l'altro no e che magari si decida di andare in un viaggio all'estero. Il genitore sociale non può farlo. Poi si arriva anche a casi in cui il bambino o la bimba ha bisogno di una cura urgente, una cura salvavita e il genitore non può autorizzarla. Il giorno del Toscana Pride, ospitato quest'anno ad Arezzo il primo in Italia per il 2017, il mondo LGBT rivendica non tanto il diritto di amare chi si vuole quanto quello ad avere una famiglia con doveri e diritti. Un gap legislativo che deve essere colmato ed ecco il perché del corteo, oltre alla gioia ovviamente, dimostrare a tutti che la felicità non ha confini. Un concetto ribadito anche nell'incontro con il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che non parteciperà al corteo ma che ha comunque voluto incontrare le famiglie arcobaleno. Abbiamo chiesto al sindaco di portare avanti delle politiche di inclusione, che è anche una semplice amministrazione comunale, cioè non solo la politica di Roma ma anche le amministrazioni comunali hanno un ruolo molto importante in termini di inclusione. Gli abbiamo chiesto di fare formazione, fare formazione nel personale che negli uffici accoglie le nostre famiglie ma soprattutto fare formazione nelle scuole, con i dirigenti scolastici, con i presidi, con gli insegnanti, perché solo in questo modo si può essere il sindaco di tutte e di tutti. Ho percepito prima di tutto, ha detto il sindaco, la ferma determinazione al pieno riconoscimento del ruolo genitoriale, la loro certezza di poter svolgere al meglio il compito di educatori nei confronti dei propri figli. E proprio i figli, continua Ghinelli, il rispetto dell'infanzia, l'attenzione e la sensibilità dei bambini sono stati al centro del nostro dialogo. A questi ultimi innanzitutto deve mirare l'impegno di tutti per una crescita corretta. La porta del comune è aperta a tutti. Di rivederci, sì, e vediamo se può uscire fuori qualche percorso di formazione.